Quando noi attraverso il computer ordineremo da mangiare al salumiere, quando noi avremo dei rapporti con gli altri tramite il computer, quando entreremo nelle case, nella vita privata degli altri, questo succederà fra alcuni anni, a questo punto cambierà la società, cambierà il nostro modo di vivere. Il sentimento è l'unica cosa che non può essere toccato. Noi dobbiamo sempre pensare che in fondo siamo degli animali. L'importante è mantenere dei valori, se noi manteniamo dei valori questi non ci li potrà toccare nessuno, nemmeno la virtualità, nemmeno la medialità, nemmeno il CD-ROM, niente. L'uomo è l'uomo che avrà i suoi sentimenti, le sue passioni, quelli che poi in fondo hanno tutti gli animali, solamente noi abbiamo il vantaggio di avere un raziocinio maggiore e quindi speriamo di usarlo tutti un po' meglio come lo stiamo usando oggi.